Le cronache riportano numerosi incidenti nei campi dovuti all'uso di mezzi agricoli, ma tante insidie si nascondono anche nella raccolta e nella lavorazione manuale dei prodotti della terra. La sicurezza parte sempre da un'adeguata formazione. Noi prima di iniziare una qualsiasi coltivazione, nel caso di questa è dell'aglio, facciamo il corso sulla sicurezza. Questi sono gli attestati del corso di frequenza, di formazione. E ne sono tanti, ne sono 14 quest'anno, perché comunque loro si stancano. Allora diciamo che i due giorni vengono, un giorno riposano, oppure c'è il cambio. Nel caso in cui i lavoratori siano stranieri è necessario assicurare la presenza di un interprete. Fortunatamente c'è lui che parla italiano, perché i ragazzi sono tutti quanti Bangladesh-Pakistani e abbiamo un'ottima traduzione, in modo che loro possano capire attentamente ciò che significa la sicurezza sul lavoro. I pericoli si nascondono a volte nei piccoli gesti. Non sembra, ma anche avere una forbice in mano per sbarbare l'aglio ha la sua problematica, perché se la prendi male, ti tagli. I decessi nei campi spesso hanno come causa turni di lavoro nelle ore calde, che vanno evitati. Loro attaccano verso le 5 e mezza, alle 11 possono andare a casa, si possono tranquillamente riposare, fare una doccia. Se poi hanno voglia di continuare nei capannoni, continuano. Per prevenire colpi di calore o altri infortuni, l'abbigliamento è fondamentale. Cappellino è d'obbligo, guanti anche, ma principalmente le scarpe. Le scarpe devono essere rigorosamente chiuse. Una spina, un chiodo, un pezzo di ferro c'è sempre nella terra.